Queste tagliatelle prugnoli hanno veramente un profumo pazzesco. Vediamo insieme la ricetta. Ho preso 350 grammi di prugnoli. Sono dei funghi primaverili, si trovano fra aprile e giugno e vengono considerati pari per bontà ai porcini. Poi ho delle tagliatelle, anzi delle sciagliatelle in questo caso e dell'aglio. Il primo passaggio è quello di lavare i funghi. Molti diranno che i funghi non vanno lavati ma solo spazzolati, ma io purtroppo non ho la pazienza per farlo, per cui anche a costo di perdere un po' di sapore preferisco passarli velocemente sotto l'acqua per rimuovere la terra. Il primo passaggio è quello di tagliare i funghi a listarelle. Non li taglio troppo fini, poi li taglierò successivamente dopo averli cotti. Sbucciamo gli spicchi d'aglio. Non si deve lesinare con l'aglio perché l'aglio si sposa benissimo con il sapore dei funghi. Metto in padella un po' d'olio e aggiungo l'aglio. Quando l'aglio si è imbiondito metto in padella anche i funghi tagliati. Una cosa importante da sapere sui prugnoli è che devono assolutamente cuocere poco tempo, 4-5 minuti, non molto di più. Se cuocessero troppo perderebbero il loro sapore. Dopo poco tempo i funghi avranno già sviluppato abbastanza liquido e saranno praticamente ormai cotti. Dobbiamo ritrovare gli spicchi d'aglio e levarli. Bene, a questo punto il sugo è quasi pronto. Dobbiamo farlo a pezzettine ancora più piccoli per cui levo la padella del fuoco e trasferisco con la forchetta i funghi sul tagliere e li sminuzzo finemente in maniera da arrivare a una dimensione giusta per condire la pasta. Rimetto i funghi in padella per gli ultimi 30 secondi di cottura. Ecco, i funghi sono pronti, possiamo mettere da parte la padella e dedicarci alla cottura della pasta. Ho portato l'acqua ad ebollizione e metto le tagliatelle, anzi gli scialatielli in questo caso, in acqua. La cottura in genere è abbastanza breve. Visto che questa quantità di funghi è decisamente abbondante per le due porzioni che ho intenzione di preparare, una buona metà la metto da parte. Calo gli scialatielli nei funghi in padella e li salto. Questa è una fase molto importante perché dobbiamo far amalgamare il succo e far sì che la pasta assorba tutto il liquido dei funghi e si insaporisca ben bene. Ecco, la pasta è pronta. Ha un aspetto bellissimo, non è vero? Non resta che metterla nel piatto e mangiarla. Io non vedo l'ora, il profumo è fantastico. Se questa ricetta ti è piaciuta iscriviti al mio canale cliccando qui e attiva la campanella così riceverai le notifiche dei prossimi video. Grazie per la visione e alla prossima!